Buongiorno signore e signori, io sono il Duca di Baionette e mi occupo di scrittura creativa. Su agenzialduca.it ho un videocorso con decine di ore di lezioni e decine e decine di articoli che vi insegneranno tutto quello che vi serve sulla scrittura creativa e sulla costruzione di una storia, che io chiamo, semplicemente per semplificarci i termini, sceneggiatura della storia. Tra l'altro in questi giorni mi risulta, o già ci siamo o ci arriviamo tra poco, ma diciamo fino al 5 luglio, ci sarà un'offerta speciale per il compleanno del mio corso che cade il 23 giugno. Siamo al terzo compleanno, quindi quarta volta che faccio l'offerta, quando è nato. Bene, adesso andiamo a una domanda molto interessante, anzi più che altro una constatazione molto interessante che mi è arrivata da Salvatore Salgari, che mi dice Ho guardato qualcuno dei tuoi video e non posso fare a meno di notare che mi muovono più dal punto di vista psicologico che di narrativa. Come che tu non mi stia parlando di come scrivere una storia, ma di come si dovrebbe vivere la vita, portando argomentazioni interessanti e condivisibili. Domanda, fai questo perché la storia funziona meglio se poggia su una base esperienziale comparabile con quella nostra reale, o perché pensando ai nostri esperienze di vita come parte di una storia pensi si possa ottenere un risultato più soddisfacente e magari controllabile? Grazie. Salvatore, scusa il ritardo perché mi ha portato questa annotazione in cui in realtà ti avevo già risposto con un commento ma volevo dedicarti un video. Ecco, il commento te l'avevo fatto subito, ma il video mi sono dimenticato di farlo e quindi è passato ormai quasi un anno. Comunque, è un argomento di interesse anche per gli altri. Dicevo, sì, hai visto giusto, in effetti nel mio corso le parentesi e gli approfondimenti e le aggiunte a tema psicologia e neuroscienze sono molto molto importanti e abbondanti. Perché? Perché la questione è che, cominciamo con la storia, ok? Una buona storia deve imitare la vita come base e poi andare oltre la vita, cioè fornire un contenuto di senso più ampio quando invece nella vita, in buona parte perché noi abbiamo solo una percezione molto limitata delle cose che ci accadono, ci manca tutto il contesto intorno che darebbe un senso a tutto quello che avviene e quindi molte cose ci sembrano casuali solo perché noi non abbiamo le altre informazioni, cioè la vita per questo motivo ci sembra avere poco senso, ok? Quindi cerchiamo il senso nella narrativa, ok? o perché certe volte noi fingiamo di non vedere certe cose e quindi ci sembra che le cose non abbiano un senso, ma in realtà siamo noi che non vogliamo affrontarle. Ecco, la base di partenza secondo me è per scrivere buona narrativa, scrivere buone storie, progettare buone storie anche, e avere conoscenze pratiche sufficientemente solide di psicologia, in particolare dell'ambito cognitivo comportamentale, perché si lega molto bene al modello eroico, al modello dell'arco di trasformazione, perché? Perché è un ambito che ti porta a doverti fare carico, soprattutto parlo della REBT, quindi la terapia razionale emotiva comportamentale, ti porta a doverti farti carico delle tue colpe, della tua responsabilità, accettare i tuoi errori di pensiero, i tuoi pensieri malsani, i tuoi errori di pensiero, razionalizzare la situazione, ti conosci in manuali per esempio Dryden, si va molto sull'analizzare che cavolo ci raccontiamo nella nostra testa, e come tirar fuori invece la verità razionale che c'è dietro, affrontare razionalmente le cose, fondamentalmente disciulandosi, smettendoci di raccontarci balle, ok? E quindi arrivare a una trasformazione, inquadrare la nostra interiorità, capire che cazzo lo facciamo, trasformarci, cambiare, eccetera, eccetera. Il modello è l'arco di Tassoni, un personaggio a visione mondo sballata, arriva a dover l'affrontare con un approccio sia comportamentale che cognitivo per avere un cambiamento interiore che poi si riflette su un cambiamento esterno e viceversa. Cioè anche magari azioni esterne di poco per volta che lo forzano a dover capire dentro di sé che allora si può fare diversamente, poi una volta capito questo lo può fare ancora meglio, eccetera, eccetera. Non stiamo a fare il cane che si morde la coda, ecco, su queste cose. Ci sono una certa elasticità in narrativa e anche nella pratica di come arrivare ai cambiamenti interiori che portano risultati esteriori. Ecco, nel mio corso avanzato per esempio ha do grande importanza gli aspetti di psicologia, alle conoscenze sul funzionamento della mente umana. Perché? Perché ad esempio per studiare una storia, ecco, guarda un film e vuoi analizzarlo, devi avere importanti conoscenze su come funziona la mente, come funziona la tua memoria, ad esempio perché ti autoingannerai su alcune cose, avrai dei ricordi che verranno sovrascritti e sostituiti con dei ricordi diversi che sono emotivamente più congruenti con un'esperienza successiva. Per esempio un tuo amico che dice, ah questo film è un'assoluta figata, tu avevi dei pensieri ambivalenti su questo film, il tuo amico per te è un'autorità semplicemente perché magari è un tuo caro amico e tu tendi, se l'esperienza sarà di un certo tipo, a rileggere, a riscriverla in un certo modo più congruente con ciò che dice l'amico. Oppure se la tua ambivalenza è molto veramente ambivalente e l'autorità del tuo amico non basta, la sua dichiarazione direttiva, ci torneremo in video futuri, potrebbe portarti per reazione a ricordare peggio il film e a contrastare, o anche senza cambiare ricordi, a contrastare l'amico dicendo, eh aspetta un attimo, film spettacolare, è però sai che palle quando all'inizio bla 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 non parti, e fai così. e vai in, tra virgolette, disaccordo, ok? Hai un'ambivalenza di valori tra quelli che ti dicono il film mi è piaciuto, quelli che ti dicono il film non mi è piaciuto, lui ti forza nella direzione del film mi è piaciuto, ma trovando un'ambivalenza tra queste cose vai a rispondere rinforzando la verità del film non mi è piaciuto. Va bene, sono cose, capisco che andiamo oltre i concetti che servivano. Ne parleremo in futuro, sono cose tratte dal colloquio motivazionale di Rolnik e Miller, ne parleremo in futuro per cose più serie che non queste. Ecco, l'importanza di questi concetti di psicologia e di neuroscienze è che servono veramente tanto a sbloccare il proprio apprendimento, cioè quando capisci bias cognitivi, quando capisci tutte le trappole che ti impediranno di analizzare un film, per esempio, o un romanzo, anche solo perché appunto tu ne parli con gli amici dopo averlo visto senza sapere di cosa devi tenere conto mentre parli e come parli e cosa loro dicono. E tu allora puoi cadere in alcuni bias cognitivi, che ho discusso in una serie di lezioni, mi sembra le prime cinque lezioni del corso avanzato di sceneggiatura, che tra l'altro, come detto prima, è in offerta. Vai e compra il mio doppio corso avanzato. Bene. Quando sai queste cose, impari anche a sbloccare la tua mente, ma non solo per produrre storie, analizzare storie, quello è il minimo. Quando impari a sbloccare, impari veramente come usare il tuo potenziale. Per esempio, nel mio corso di sceneggiatura, se mi ricordo bene, spiego anche a grandi linee come si costruiscono le abitudini del nostro cervello. Cos'è un'abitudine? Il percorso elettrico è più facile da percorrere rispetto a un altro. Faccio tutti gli esempi delle metafore. Vi do soprattutto i riferimenti ai libri da studiare. Su questo magari ci torneremo, perché penso che sarebbe carino fare un video in cui vi do proprio un elenco dei libri che, oddio, che al mio corso avanzato ce li ha indicati tutti, eh. Però sarebbe magari utile fare un video in cui vi segnalo proprio i più utili per affrontare il funzionamento della mente umana, eccetera, eccetera, così potete inquadrare tutto. E da lì, capendo quei concetti come funziona la memoria, come funziona la percezione, come funzionano tecniche persuasive, eccetera, eccetera, quindi libri di Cialdini, Sharrot, Kornikova, bla bla bla, arrivate anche a capire meglio del perché la narrativa è, la narrativa immersiva, trasparente, è necessariamente la forma migliore di narrativa se vogliai emozionare il lettore, perché è tutta una cosa che si desume facilmente dalle conoscenze neuroscientifiche, ok? E di psicologia. Quindi, il modello dell'arco eroico, quello che vi insegno tramite il mio corso di sceneggiatura, sia quello basico che quello avanzato, che è molto basato sul cambiamento vittorioso di un protagonista che affronta i suoi limiti inadeguati, eccetera, eccetera, che quindi sceglie una visione del mondo, una visione del mondo più sana rispetto a una visione del mondo che era sbagliata e altre cose, è molto legato a tanti concetti di psicologia. Vi faccio spesso dei paralleli. Ho pubblicato recentemente un'infornata di, credo, 15 lezioni, se ricordo giusto, di cui 9 sono l'analisi del romanzo Caligo. E lì ci sono molti inserti di psicologia, che vanno proprio a spiegare alcuni concetti, l'errore del personaggio, vanno a spiegare cose limitrofe. Ho fatto dei riferimenti anche in un articolo in cui parlavo del lieto fine per le tragedie, parlavo dell'oma e Giulietta, facevo dei riferimenti di psicologia di un certo tipo. Cioè, varie cosette, più o meno importanti, ma è tutto permeato. Perché? Perché quando si parla di vicende umane, se non hai conoscenze in neuroscienza e psicologia, vai molto sul io penso che. Ma io penso che, dal mio punto di vista, non è accettabile per un formatore. Per questo, da quando ho deciso che volevo formare i miei autori, non semplicemente uno per uno, li potevo seguire, stare molto attento a cosa stai imparando, che stai dicendo, che stai facendo, eccetera, eccetera, nel tuo romanzo, li potevo seguire uno a uno. Non avevo questa grande pulsione a studiare apposta queste cose, anche se avevo già studiato Learning Auto Learn, già conoscevo il sistema di pensiero diffuso, il sistema di pensiero focalizzato, eccetera, eccetera, quindi parecchie cosette le sapevo già. Ma mi, diciamo, mi è presa la strizza del dover insegnare queste cose al meglio, quando nel 2017 ho cominciato ad avere un primo gruppo di beta corsisti per questo corso avanzato video lezioni pubbliche, video lezioni a comprabili da tutto, e poi soprattutto dal 2018, giugno 2018, quando ho aperto le vendite. Infatti già dal 2018 ero molto dentro l'ambito dei manuali, cose in neuroscienze, psicologia, eccetera, perché per me diventa una cosa fondamentale. Su queste cose, sia per serietà del formatore, sia perché si sovrappongono proprio ai concetti di sceneggiatura, sapere queste cose di psicologia, queste cose in neuroscienze, non mi risultava, secondo me non mi sarei sentito un formatore serio a non inserirli e applicarle. Voi mi direte, ma praticamente nessun altro formatore in Italia o anche all'estero, da quello che mi risulta, include le neuroscienze, la psicologia, soprattutto clinica, in modo così importante nella formazione per la sceneggiatura e per la scrittura. Capisco, però secondo me è un approccio sbagliato, io sono su un approccio più moderno in cui arte, creatività e tutto, visto che si basano su come funziona la mente umana, dobbiamo sapere come funziona la mente umana. Ancora di più, visto che il creare delle storie ci parla di personaggi con una psicologia, magari invece di inventarci le cose in base ai gusti personali, se cominciamo a sapere qualcosina di più, come funzionano la mente umana, come ragionano le persone così così, un qualcosina, non chissà cosa, è meglio. E poi soprattutto è utile anche per noi, perché tanti autori che ho formato con queste cose, che io vi dico quattro cagate nei miei corsi, e sono entusiasti perché gli do anche riferimenti. E quindi poi si appassionano e vanno a studiare, si compro i libri da Connicova, si compro i libri di Albert Ellis, che ansia, che rabbia, l'autoterapia razionale emotiva. E tanti autori mi hanno ringraziato, non tanto per le cose che avevano imparato nel corso per scrivere, che erano contentissimi, ma dicendomi quello è il meno. Perché ciò che veramente ho ottenuto e che mi ha sorpreso è che ho ottenuto cose spendibili che mi hanno migliorato tantissimo la vita, sono più produttivo, sono più felice, mi arrabbio di meno con gli altri, soffro meno di ansia. Io dico, ok, grazie, sono contento, sono contento che hai scoperto quei libri grazie a me, hai stato detto l'input, bene, se uno fa un corso ti impegni al 90% per insegnare progettazione delle storie e scrittura, e la gente impara benissimo, perché prende risultati nei migliori e nella scrittura che sono eclatanti. Abbiamo già selezionato cinque autori come potenzialmente seguibili da me gratis, perché sono molto bravi, quindi seguili poi per portargli alla pubblicazione in cinque mesi, da gennaio a giugno, da gennaio a maggio. A giugno ancora non abbiamo trovato uno, ci manca proprio del fare sei su sei. Ma è una cosa assurda, da quando ho applicato nuovi concetti, anche questi tratti, dalla psicologia dell'apprendimento, gli ho forzato gli autori a fare certe cose, forzati nel senso che li ho fortemente consigliati, improvvisamente si è passati da due autori selezionati in tutto il 2020 a cinque selezionati nei primi cinque mesi del 2021. Perché è successo? Perché sappiamo come funziona la psicologia dell'apprendimento e quindi sappiamo come funziona, cosa permette di migliorare e come ottenere certi miglioramenti e cosa consigliare agli scrittori per ottenere bla bla bla. E quindi, che poi sono cose anche apparentemente banali, eh? Ma se non le sai non le fai. E se non le fai non arriva i risultati, chiaro? E quindi sì, sono molto contento, poi dico cavolo, il 10% dello sforzo ottiene l'80% dei plausi. Va bene? Cioè io sono contento che la gente mi dica che il mio corso di scrittura di sceneggiatura è meraviglioso, ma è ancora più meraviglioso perché ti cambia la vita in altri modi. Grazie. Va bene. Mi spiace non avere una laurea in psicologia e non fare solo corsi su quella, questo che per me è secondario perché non ho studiato in quell'ambito e non sono psicologo. Per me è un di più che ometto. Come le neuroscienze è un di più. Non sono un neuroscienziato. Non è psicologo né neuroscienziato. E quindi tornando a domanda di Salvatore Salgari, cioè alla considerazione di Salvatore Salgari, sì, le nostre esperienze di vita, saperle leggere, conosce la psicologia, conosce la neuroscienza, conosce come funziona la mente, quindi anche la nostra mente, ci permette di avere un risultato più soddisfacente anche quando pensiamo alle storie e soprattutto un risultato più soddisfacente nel come noi ci approcciamo alle storie, come noi lavoriamo, come noi pensiamo. Tu sai meglio come pensi e sai come pensare meglio, che non fa male. E sì, e anche analizzare le proprie esperienze di vita, certo, come dice Salvatore. Base esperienziale comparabile con quella nostra reale, perché pensiamo alle esperienze di vita, bla bla bla, esatto, è quello, anche quello. Quando comincia a inquadrare certe cose, anche grazie a neuroscienze e psicologia, comincia a dire ma questa cosa si lega con questo e quindi questa cosa allora va a spiegare quella cosa che si fa nell'arco di trasformazione, ha quindi e comincia a collegare e dici ma allora il difetto fatale non va vista come una becera resistenza, perché non è resistenza. Lui è ambivalente tra due visioni del mondo, lui vorrebbe cambiare ma al stesso tempo ha molte dichiarazioni interne di protezione dello status quo, non solo dichiarazioni a vantaggio del cambiamento. E quindi non devo vedere gli errori che fa a causa del suo difetto fatale come un idiota che fa idiozie, ma vederlo come un sistema di valori che in un certo momento nel suo passato è stato anche vincente, ma che adesso gli dà dei problemi e lui ha questa ambivalenza in cui non sa ancora andare al vero cambiamento perché ha ancora troppe dichiarazioni e troppi valori che lo tengono nella vecchia versione di sé. E noi smontando quei valori, non con uno stile direttivo, cioè affrontando, dicendo, non è che arriva un personaggio e dice smette di essere un codardo, lui smette, ma tramite esperienze lui può vedere, può autoconvincersi perché ciò che noi diciamo a noi stessi è più importante ciò che gli altri dicono a noi, può arrivare a capire, a maturare, quindi sai anche magari come affrontare le sfumature del suo difetto, perché lo vede dal punto di vista di uno psicologo, e quindi comincia a dire cosa il mio personaggio crede che lo mantiene nella vecchia versione di sé, quali sono le sue dichiarazioni a favore dello status quo che lo mantengono bloccato e non gli permettono di cambiare, e poi ci sono questa, questa e questa. Ok, quindi mi serve che a un certo punto lui abbia un problema che lo porta a contrastare e a dichiarare come falsa questa prima dichiarazione, che lo mantiene in questa ambivalenza. Quando lui avrà molte più dichiarazioni a favore del cambiamento e pochissime contro il cambiamento, cioè difesa dello status quo, difesa della sua vecchia visione del mondo, sarà in grado di fare il passo del midpoint e di cambiare. Se ho fatto vedere un'applicazione terra a terra, sarebbe più bello farlo con degli esempi pratici, magari dedicherò o un video futuro o una lezione aggiuntiva del corso avanzato di sceneggiatura che già adesso conta. Nel momento in cui uscirà questo video 41 lezioni, erano previste 40 lezioni, sono già 41, ma mi avevo infatti detto che nel tempo ho aggiunto una serie di argomenti che voglio trattare in più e penso che ci saranno un altro decina almeno di lezioni extra, perché già adesso diciamo è chiuso, è arrivato l'esercizio finale completato, è arrivato anche un pezzetto oltre, ma ci sono delle cose che nel tempo ho pensato queste ve le devo insegnare e quindi il corso continuerà a espandersi, come anche ci sono delle lezioni aggiuntive del corso di scrittura che ho pensato a un certo punto, abbiamo affrontato sta cosa che è proprio figa in questo romanzo che abbiamo lavorato, sarebbe bello se ve ne parlassero una lezione, infatti mi sono segnato delle lezioni in più. No, perché questi corsi non può anche dire che il corso è completo, che abbia video o che non ce l'abbia, il corso è completo a livello di teoria, quello di scrittura ha anche video, quello di sceneggiatura non li ho ancora, però a un certo punto sono corsi vivi, il fatto che vivi sia completo non vuol dire che tra un anno non ti dico, ehi c'è una lezione in più, vieni in regalo, tu hai già il corso e quindi c'è tutte le lezioni in più che ti darò, ok? Perché la mia regola è questa, quello è il corso, ti do le lezioni aggiuntive gratis. Può essere magari che in un futuro io possa decidere di fare da capo tutto il corso e farlo ricomprare, il corso 2.0, ma non credo, la mia formula, il mio approccio, penso che sarà così ancora per i prossimi anni, è quella del, anche dovessi rifare da capo tutti i video, dovessi fare una versione 2.0, semplicemente cambio la versione a chi l'ha comprato, diventa quella. Il corso fa l'upgrade e tu ottieni l'upgrade, chiaro? Come quando uno corregge un typo in una lezione, non è che la fari comprare, è corretto il typo e la gente si trova la lezione con la correzione, o hai aggiunto qualche riga per spiegare meglio una cosa che vedi che le persone non capiscono bene, la prossima volta che lo leggi c'è quella riga in più, quelle qualche riga in più, ok? E poi c'è molto questo, prodotto vivo che cresce, che migliora nel tempo, per quanto può sembrare completo, prima o poi qualcosa ci verrà in mente da aggiungere per andare oltre la completezza, cioè oltre la completezza di ciò che serve, quel di più che ci è venuto in mente, non è fondamentale ma secondo me sta roba gli piace, ciò si butta, e cose così insomma. Quindi sì, il mio corso veramente non è semplicemente un corso di scrittura e sceneggiatura, è un corso che va alla base, perché se tu non sai di che cosa scrivere, la natura umana, il funzionamento e la mente, queste cose, se non lo sai, ma di cosa scrivi? Capisci? Alla fine è sempre quello, scrivere è una tecnica, progettare le storie è una tecnica, ma devi avere dentro le cose a cui applicare queste tecniche, se non ce le hai, le tecniche da sole non possono cavare fuori la vita dove non c'è la vita. Bene, buon divertimento e spero che tu sia interessato a comprare il mio corso avanzato, o soprattutto spero che tu sia interessato a seguire i prossimi video. Ci sono dei video molto interessanti nei prossimi giorni.